salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura qui su day z ci trovevamo nella nella casa avevamo lasciato qua c'è già un caricatore ci troviamo nei pressi della aspettate un secondo è finito eccolo 9 e 19 ok nei pressi del villaggio abbiamo trovato questa casa per ripararci quindi possiamo continuare la nostra avventura vediamo un po come la situazione si è alzato pure un po di vento sperando che ovviamente non vada a portare della pioggia allora ora però non mi ricordo se noi eravamo venuti da di qua o da di qua anche facendo un po freddo no eravamo venuti da di là perché lì c'è la c'è la torre quindi no dobbiamo venire di qua sono pure un paio di zombettini e se non ricordo male dovevamo poi andare con la strada che andava verso nord ora però non mi ricordo come com'era la situazione vabbè già che stiamo ancora ragazzi facciamo un giretto per per le case e vediamo un po se troviamo qualcosina di interessante che c'è o la cote buono per poter andare a sistemare un po gli player addirittura non è stato chiccato fuori bene per andare a limare gli oggetti qua c'è pure la la fontanella allora no noi eravamo nella parte finale del della del villaggio però doveva andare verso verso nord quindi dobbiamo prendere la strada questa che va su ecco c'è un player la eccola va a capire se mi ha visto oppure no che cazzo sta andando ok correndo per esempio lungo la strada tipo cosa ci conviene seguirlo o ci facciamo i fatti nostri secondo me ci facciamo i fatti nostri rega perché non so dove si è effettivamente andato e dove si ha a corsa così velocemente vabbè vediamoci un po c'è un gruppetto dei zombie che insomma è strano che sia lì così allora dicevo proseguiremo lungo la strada noi abbiamo sempre come direzione anzi come destinazione il l'aeroporto quindi vediamo di raggiungerlo purtroppo non abbiamo ancora una cartina ma giusto quello che mi ricordo come come indicazione della cartina che abbiamo trovato poco fa già poco fa nell'episodio scorso se non ricordo male scusate ma è da un po che non lo registro quindi non è che mi ricordo benissimo allora questa torcia frontale e qua c'è un cappuccio niente ok rega noi andiamo dall'altra parte purtroppo il tizio l'ho visto correre anche abbastanza velocemente da in quella direzione non abbiamo fucili a lunga cioè si ci aveva questo a lunghe non so quanto cazzo ero inizia a fa un po freddino ma se aveva fatto prendere un colpo pensavo fosse qualcuno fucire non so quanto possa essere di lunga gettata quindi meglio evitare di sparare il colpo soprattutto per essere visti e sentiti quindi quello se ne andrò della e noi ce ne andiamo da un'altra parte aspettare mi pare di aver visto un fungo sì eccolo è una messa che non è buono è una faccia un po no marcia infatti corcacchia che me lo magno vabbè andiamoci nel loro dai stanno a chiccare una cifra di gente che è un'altra volta a capire perché alla fine stavo su un server ufficiale quindi non so se l'hanno chiccati li stanno ancora chiccando per non so per cheating anche se penso che non vai a chiccare persone perché altro le banneresti voglio sperare o forse per troppa per quelli che sono a fk perché comunque prima di registrare ho dovuto fare una coda di cinque persone che è andata anche abbastanza velocemente quindi non so sulla base di cosa stiano facendo questi 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 chicche vabbè pazienza non ci interessa allora proseguiamo lungo la strada stavo vedere che qua sotto c'è un'altra di strada in verità c'è una delle altre c'è una strada sterrata però guarda come cazzo si piegano starberry mamma mia e questo è uno dei sentieri questo è quello celeste era uno di quei sentieri che abbiamo visto un paio di episodi fa quando abbiamo avuto la mappa turistica e appunto abbiamo visto che ci sono dei sentieri di vario colore che vanno a tagliare la tutta l'intera mappa e danno poi una cioè finiscono poi comunque presso delle città o dei paesi quello lì non so se era la parte in cui iniziava o finiva dipende ovviamente da che parte lo si guardi però comunque iniziava eventualmente quello quello celeste allora proseguiamo lungo la strada qui ragazzi purtroppo non avendo una cartiera mi devo ovviamente basare sulle strade altrimenti tagliare dritto per i campi senza una meta è un po' difficoltosa questa eravamo già venuti qua perché mi ricordo sta strada che dopo un po' inizia a scomparire vedete già adesso è già mezza mezza scomparsa che non non si vede fino a che quasi nei pressi della della città non inizia proprio a scomparire non si vede quasi più siamo sempre in allerta ragazzi che comunque il server mi dava popolazione alta quindi col fatto che c'era la coda potete immaginare che sia abbastanza pieno vedete qua già inizia un po' a diminuire un po' la scia insomma la strada vabbè proseguiamo siamo un po' in campo aperto qui eh e vulnerabili eventualmente per per qualcuno dobbiamo anche mangiare quindi il momento in cui arriviamo magari verso starberry davanti a noi ci ci fermiamo vediamo e mangiucchiamo qualcosino comunque intanto ragazzi volevo ringraziarvi come sempre per tutti i consigli e suggerimenti che mi lasciate nei nei commenti non ho abbandonato dei zi ma ho semplicemente diminuito un po' la cadenza dei video perché comunque sia era diventato un monopolio sul sul canale e non mi piaceva anche perché non sono diciamo un canale che fa solo quella categoria o solo quel gioco quindi capite bene che ovviamente potrei ovviamente cavalcare l'onda diciamo del successo tra virgolette nel senso che comunque sia i video di di z stavano e stanno comunque andando andando bene diceva beh continua a fa quelli sti cavoli dell'altri invece no perché comunque ci sono anche altre persone che hanno conosciuto il mio canale per altri giochi ed è giusto che continui anche loro quindi avrà una cadenza più bassa ma comunque si farà insomma non non vi preoccupate allora abbiamo bevuto manniamoci un po' di riso qua sperando che non arrivi nessuno ci sia una schioppettata dietro la schiena basta che abbia mangiato pure troppo questo cibo sconosciuto non sappiamo e qua c'ho i fagioli ora cerchiamo un attimo di sistema sta situazione così mettiamo pure i fagioli qua sopra se non mi scordo di averceli e allora proseguiamo che è la partita lì ci vedevo oltre mi sembrava una specie di recensione o qualcosa del genere allora siamo quasi in città magari andiamo un filino più veloci e sono contento comunque che la pistola alla fine non è male rispetto a tante altre insomma come mi avete detto è diciamo già silenziata di suo senza dover eventualmente trovarne un altro quindi mi fa piacere perché insomma l'abbiamo già provata sul campo e non è andata male dovrei trovare eventualmente un fucile degno desto nome anche se quello che ci abbiamo non ho idea se se è meglio cioè se potrebbe comunque essere buono nello spotter però insomma e ci abbiamo poi il fucile a pompa ma per il momento siamo sprovvisti dei dei colpi quindi è come se non ci fosse allora come sempre ragazzi vediamo un po' come la la situazione siamo ritornati su una strada principale quindi quella che abbiamo preso diciamo un'intersezione di un'altra strada e conterei sempre di andare verso nord quindi poi dalla strada qui andiamo verso verso sinistra però controlliamo bene qui perché insomma non so chi potrei incontrare ma soprattutto se potrei incontrare qualcuno questa maione che c'è scatolette ah no pensavo fossi roba da mangiare una lampadina mi pare si va questi cacchiere questa e non c'è nient'altro no a fine riso non è che mi ha fatto alzare più di tanto c'è anche adesso adesso sta tirando su va bene ruota qua motore no c'è niente di niente di chi è eh eh è un arbero tutto bianco orpa mo c'è un po' la paranoia di di trovare qualcuno che mi gironza però secondo me se mi passa tipo qualcuno ai lati io rischio di non di non vederlo proprio assolutamente mi sa che questa qui era lo stesso villaggio dove siamo morti l'ultima volta martello mi ricordo a parte questi villaggi sembrano quasi tutti uguali no ma mi sa di no mi sa di b no mi sa di no forse si ma no è lo stesso mi sa vabbè sti cavoli comunque prestiamo attenzione qua veramente potremmo trovare qualcuno eh non c'è niente questa aperta si che è questo peperone essicchato essicchato ma avete detto che si può mangiare quindi è brutto e per il momento ce lo portiamo dietro occhia qua questa aperta è un casino non sai chi ci puoi trovare dall'altra parte una batteria per camion ma mi sembra eccessiva ora non ho visto zombie quindi potrebbe essere ovviamente positiva come cosa non ne ho visti neanche di morti quindi potrebbero anche non essere ancora nati per il momento oh zucchina buona mangiamo allora capannone che in verità non ci interessa noi siamo più per per le case un'occhiadina ovviamente anche ai tetti se c'è qualche cammino che fuma avrebbe esso un problema allora giacca questa che cos'è usurata la nostra com'è è intatta quindi per il momento teniamo la nostra troppo la nostra è bianca però non è male quindi va bene così gente che ancora viene chiccata stavo a vedere i nomi sono quasi sempre gli stessi quindi osso a quelli va a capire perché insomma vabbè non ci interessa perché non chicchiano noi va bene pure così questa cosa torcia frontale sti cavoli se ne trovano un boato di sti torcia frontali in verità allora qua è tutto spento ed è pure chiuso qua aspetta un po' e quando è chiuso è un casino ok libero libero e senza niente occhio l'ho poi chiuso a stravarte ok vuoto se è che nessuno ci ha messo piede qua non c'è sembra di sentire zombie da qualche parte o forse era il vento non lo so mi sembra tranquilla sta sto paesino so che voi non sperate altro di di avere un video con tutti i vari scontri eccetera ma non è colpa mia raga anche se non è che ci tenga molto a fare i vari scontri però se dovesse capitare ovviamente non è che ci tiriamo indietro assolutamente allora proseguiamo l'esplorazione raga ma credo che sia la stessa eh sta città con caggio strama ricordo parte che alla fine ora come ci siamo arrivati qua se dovessi ritornare accedermi io non mi ricordo però gira di gira alla fine le città perlomeno visto che comunque stiamo andando sempre nella stessa direzione eh le abbiamo le abbiamo viste insomma vediamo che piano piano ci avviciniamo sempre di più alla meta ma per il momento ancora non l'abbiamo nemmeno mai vista da lontano sta meta questo che è appartamenti vecchio oh mazzarabesbo ma ce l'abbiamo già oh e chi l'ha i zompetti ah qua c'è la clinica ok mi ricordo ora oddio in verità non è che mi serve molto ad andarci lì alla clinica però potrebbe essere interessante che è sta pistola vediamo se i caricatori di questa aspetta un attimo già che ci siamo che siamo fermati mangiamosi tutto sto riso ok allora fai qua meglio lasciagli eventualmente la la pistola scarica che che carica allora mi avete detto di lasciare cioè di tenere comunque i caricatori pieni giustamente per a parte questa però è i caricatori per la P1 la nostra cazzo si chiama la nostra eccola mk2 c'è due due caricatori della P1 praticamente tre caricatori della P1 ammazza che ce l'ho fa aspetta un attimo svuotamoli allora perlomeno questi ci prendiamo i colpi ok e va bene questi ok lasciamo qua per ora va bene così dista mette questi corpi qua ok allora caricatori della nostra di pistole posto 5 corpi mi ricordo quanti ne ha addosso a parte questi sono gli stessi aspetta un attimo vedi stavo un attimo a perde e vabbè questo ah no questo non monta i 9 e 19 che cacchio monta i .22 e allora che caspita mi sono presi a fa questi di 9 e 19 c'ho un sacco veramente ma sto a portare presso un fottile di cagliatori di stappi 1 vabbè lasciamola qui vabbè niente come non detto montiamo questa e via pensavo da averci i colpi in verità cioè pensavo montassi i colpi normali che stavo utilizzando mentre non è così quindi devo prestare attenzione fanno una cosa va sta più non portamoselo perché se no rischio se dovessi finire i corpi di questa rischio di non avere pistole da utilizzare e quindi direi che non è proprio il caso allora aspetta prima di cambiare fai così metti un attimo no aspetta perché non me li fa mettere scusa 919 eh combina perché è pieno questo ah porta solo 8 8 proiettili questo caricatore si 8 c'è scritto ok e scambia e fanno così allora riempiamo pure questo mero mero confuso io tra i caricatori ok così come mi avete detto abbiamo dei caricatori eventualmente da da utilizzare velocemente ok ma vi ha gente che sta chicchia oh yeah allora dai proseguiamo raga serratura tre cifre non ci interessa andiamo un po' qui al negozietto al negozietto vorrebbe avere qualcosa questo che era un ozotipo che era un parco giochi forse che c'è giacca del comprare da donna pantaloni e jeans e un'altra pistola questa è la deagle questa mi sa che è già meglio eh questa mi sa che è già meglio questa sa dei pistoloni sta sa dei pistoloni allora aspetta un attimo metto acqua questa che monta però i 357 357 io non ho caricatori ovviamente per questa e però ma porterei comunque dietro ci avrei ma anche i corpi in verità però la deagle è comunque un'ottima cosa sti pantaloni qua pantaloni con le tasche intatti e quindi jeans niente niente ok peccato non averci appunto i i 357 non ho idea di come siano i caricatori se ci sono proprio caricatori specifici per la per la deagle vista che comunque non è che non è che mi capita sempre di averci tutte le pistole ma non so di che dovemmo fare la collezione intendiamoci però aspettate vado a controllare un po' sta zona sta città non riesco a inquadrare insomma un po' tutta mezza distrutta occhio qua nastro adesivo prendiamoselo occhio che parte aperta vuoto tarci affrontare che non ci serve vabbè perlomeno siamo siamo armati come sempre chi chi verrà a prendersi la nostra vita avrà un bel po' di roba da prendersi allora qua in mezzo i rottami sempre un po' giù con la con la fame a parte che abbiamo recuperato qualcosina magari possiamo mangiucchiare qualcosa vediamo se un attimo qui allora tipo sta zucchina com'è è marcia però no niente pensavo fosse pensavo fosse meglio oh maniamosi sta patata anche se è cruda e ci potranno fame tutti ci fanno male un po' la pancia spero spero solo quello maniamo se vuole questo peperone che era essiccato ok basta che mi sembra abbastanza abbastanza grande pensavo finisse velocemente invece no ok ancora ho messo le tende qua ho sentito una cosa che un rumore è strano forse erano zombie sì sì ma era sembrato come se fosse di pomplay però qua non c'è niente quindi forse qualche zombie che è nato nelle vicinanze vediamo se troviamo per casa qui no qua manco e niente se ne potevamo andare questa è che è la chiesa magari erano soltanto gli gli alberi che facevano rumore per via del cazzo c'era il prete no vabbè era uno zombie per davvero però è il prete non è che lo dobbiamo ammazzare per forza cerchiamo di passare inosservati allora lì c'è un cartello a sinistra non ci andiamo dobbiamo andare dritti dritti per due chilometri ancora ora senza entrare qua nella nabazia ok qui cerchiamo di oh manchiamo il zombetto cerchiamo di di passare quanto più inosservati possibile occhio qua niente caschetta ma non c'è interesse ok ok ma i zombetti so eccolo qua aspetta che passi se passa ma mi chiude questa almeno cioè le spalle parate ma direi che non si passa là e io passo da qua invece intanto questa è una zona industriale non dovremmo forse trovare niente di interessante per per noi però stiamo comunque attenti oddio questo nel supermercato forse qualcosina sì dai non posso entrare qua dentro ma 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 seriamente sì seriamente a quanto pare è troppo alto non ci possiamo entrare ma che cazzo di cacchiata però eh questa è una bandiera non ci serve i zombetti indostano da fuori c'è niente niente di che è quello dei primi che che giro non se la va dai fuori niente vuoto ok assolutamente vuoto a parte la bandiera niente di di utile vediamo un attimo bene cammino ovviamente accovacciato per evitare di fare troppo rumore questa cosa che non posso scappare dalla finestra così enorme è un po' una chiacchiata cioè che cavolo so costretto necessariamente a uscire dalla porta cioè gli altri mi possono sparare perché magari le finestre sono chiuse e io non posso scappacce vabbè per guardia che pensavo fosse più piccolo sto paese invece è una bella cittadina bella bella grande allora sto generatore di energia non ci serve per il momento forse mai ci servirà vediamo se riusciamo a passare inosservati non più per cercare di di proseguire ripeto la nostra meta è è l'aeroporto ma io posso pure ammazzarmi da là davanti appena l'ho visto però giusto per avere la soddisfazione di dire ci sono arrivato sono morto là ma ci sono arrivato vabbè controlliamo pure qui questa stazza ha troppo vento però eh veramente tanto tanto vento oh bottiglietta d'acqua sperando che sia sia buona quindi un attimo allora un attimino perché qui abbiamo preso un sacco di roba ma non so se poi è il caso di buttare qualcosa come peso stiamo ancora abbastanza bene e bottiglietta d'acqua sì va bene siamo più o meno a metà e poi c'è una sta fracca di pende che non so che farcene vero vabbè damosene da qua damosene assolutamente da qui poi c'è uno zombie ovviamente ora sono quelli che sono sono nati perché ci siamo noi voglio sperare perché quando siamo arrivati non c'era veramente niente tutto è molto tranquillo forse pure troppo tranquillo va bene dai l'abbiamo passata abbastanza velocemente però non voglio perdere tempo quindi usciamo da qui e proseguiamo la prossima la prossima meta ragazzi seguiamo la strada vediamo dove dove ci porta c'era il cartaglio che diceva a sinistra per un'altra città ma penso fosse quella dove da dove venivamo noi quindi non era il caso di andare lì mentre dritto due chilometri c'era qualcos'altro e vista che mi ricordo che il l'aeroporto era nella parte nord rispetto a dove siamo noi quindi proseguiamo da quella parte ovviamente mi ricordo che mi ah qua c'è un ruscello vabbè non mi aspetta aspetta noi ci abbiamo le cose sì ce l'abbiamo le complesse cloro allora famo una cosa riempiamo ste bottiglie e ci buttiamo il la complessa al cloro certo più che svuotarla avrei potuto berla però vabbè e via buttiamo l'acqua così ok e combino vai ok occhio perfetto questo è posto fammi uno scambio stavolta bevi vediamo di buttarla giù dato l'acqua non ci dovrebbe far male perlomeno perlomeno stiamo a posto per un po' e allora e riempila riempi 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 spero che non mi sono bagnati i piedi sono abbastanza lontano verrà e combina e depuriamo pure questa così stiamo a posto per quanto riguarda l'acqua ok ok possiamo andarcene vai vedete che possiamo andarcene corriamo pure un po' sembra che ci siano un bel po' di spazi aperti qua i spazi aperti non mi piacciono e possiamo essere preda facili perché dicevo mi ricordo che mi avete detto che andando ovviamente più verso il centro della mappa qui c'è un orto parello mi dispiace più il centro della mappa si trovavano ovviamente player diciamo più equipaggiati con arsenale migliore ovviamente di quello che potremmo trovare noi venendo dai suborghi però tocca comunque spingersi un pochettino verso l'interno mi avete sempre detto di girare per conoscere la mappa e quant'altro quindi facciamolo a nostri rischi e pericolo ovviamente ma facciamolo alla fine ci stiamo divertendo non è un problema allora li vedo sembra un muro barra ricensione qui ci sono delle case cos'è tipo una no è un muro così normale ok pensavo fosse un muro di una base militare e quant'altro comunque il paesino qua ci siamo arrivati ora se fossero due chilometri ovviamente no non lo so ma diciamo che ci siamo arrivati siamo a Caino Caino o qualcosa del genere sicuramente non si pronuncerà in quel modo però abbiate pazienza allora qui non c'è assolutamente niente porta aperte quindi forse forse qualcuno in giro potremmo trovarcelo chissà c'è sempre sta fame che ci perseguita però cerchiamo di metterci un po' al sicuro che le case stanno lì a destra però diamo un'occhiata tra l'altro non siamo andati neanche a vedere il nella nella città precedente c'era il cosa la l'ospedale diciamo tra virgolette e allora prima se stivaggio di scada perché c'era anzi no vediamo se sto tonno va che è un po' più sergetto anche se c'è pure quella mezzo pomodoro ancora da finì cioè peperone da finì però giusto per cambiare un attimo la nostra dieta mangiamo se sto tonno e via ok vediamo un attimo pure una macchina lì non so se è magari una di quelle che si possono sistemare chissà tutto molto tranquillo qui forse pure troppo i zombie ancora non li riesco a vedere altra patata buono questa con jeans e niente allora ragazzi troviamoci un punto dove rimanere per la notte diciamo così perché probabilmente andiamo fin troppo lunghi con con l'episodio se mi sembra ovvero tutto fin troppo tranquillo altro perché non c'è zombie quindi diciamo che di recente nessuno è passato qui io ho i corpi i pallettoni calibro 12 per il fucile a pompa finalmente qualcosa l'avremmo trovato e questi sono pantaloni ah pantaloni da tuta addirittura con le cose una batteria dentro strana sta cosa questo è strano si vede che magari qualcuno si è cambiato questo è strano come cosa allora i frighetti li piazzano qua questi dovrebbero essere appunto i calibro 12 cambiamo qui dai ci avremmo solo due corpi mettiti qua mettiti per l'altro magari grazie ok non so per fucile a pompa mi sento un po' più sicuro e sviccia un attimo così ok lo so da vicino fucile a pompa da una bella schioppettata vedi come sartano spero vabbè allora veramente ragazzi ci possiamo salutare entriamo dentro a sta casa con calma e ci salutiamo poi c'è una una fontanella ma stiamo abbastanza pieni da questo punto di vista abbiamo le due borracce piene guarda male che non me so girato a controllare che è quel casco giacca della tuta casco da occhi questo carabina ripetizione addirittura non so se è meglio o peggio della nostra monte i 357 che noi non ci abbiamo sempre convinto di avere questi 357 ma poi non ce l'ho e forse la carabina è meglio la ripetizione però comunque non avrà i corpi quindi per il momento niente così allora lì penso che sia un negozietto da andare a controllare comunque ripeto ci possiamo anche salutare qui siamo andati veramente un po' lunghini poca e niente azione direi giusto all'inizio quel bivito con quel player ma insomma lo abbiamo lasciato passare e non abbiamo ingaggiato tanto non avevamo un fucilico la gettata sufficiente sufficientemente lunga per prenderli e riuscire a a fargli del danno sicuramente non l'avremmo magari neanche preso quindi meglio non scoprire la nostra posizione e lasciarlo andare tranquillamente io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo se vi fa piacere lasciatemi un mi piace un commentino iscrivetevi al canale se non l'avete fatto in descrizione poi trovate il link a tutti i social dal server discord della mia attrezzatura in alto a destra trovate due playlist la prima è quella riguardante i tutorial sempre di the zip e la gestione del server la creazione del server l'inserimento dei modi e quant'altro e l'altra playlist invece è tutto i video di gameplay che stiamo portando avanti ma è già tutti lì io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao